Sempre un po' l'errore che fa il tuo stile non è il giusto anche in fotografia lo intendo cioè se tu segui il manuale del fotografo o il manuale dell'elegante ti metti come dire il solito un gessato la solita camicia invece bisogna un po' mescolare le carte avere qualcosa di classico montato su delle cose anche meno classiche insomma alla fine la codificazione dell'errore diventa sfida e vale anche in fotografia secondo me se facessimo tutto giusto fanno tutti la stessa fotografia io non distingo tra la mia vita la fotografia in ognuno di noi c'è uno stile come ci sono delle impronte digitali forse anche nell'abbigliamento prendi cose che ti raccontano seconda vera passione che combatte la prima è la poesia poi diciamo come hobby molto i cavalli che adoro soprattutto perché hanno un livello di bellezza altissimo sono di una grazia furibonda e quando sei su di loro nasce un animale nuovo che ha la tua testa e i suoi muscoli questa metamorfosi è meravigliosa